Ciurma lo andrò a rilasciare appena questo video raggiungerà i 30.000 like Alla ciurma benvenuti in questo nuovissimo video della nostra serie dei tiktok Ma oggi ragazzi un episodio speciale infatti andremo a provare e a smentire e a ricreare alcuni dei tiktok fake più virali su minecraft Quindi mi raccomando vedete tutto il video perché in questo modo imparerete come fare alcuni scherzi ai vostri amici Però ciurma prima di iniziare con il primo tiktok di oggi voglio dirvi due cosette importantissime La prima cosa è quella di iscrivervi tutti quanti al canale perché se vi iscrivete al canale lasciate tutti quanti un mega mi piace E condividete questo video insomma tutte le cose che sono scritte qua ragazzi A 520.000 iscritti andrò a prendere alcuni dei miei iscritti in modo casuale e gli andrò a regalare una copia di minecraft o java o pocket In base alla sua preferenza insomma Quindi spacca il tasto dell'iscrizione con la campanellina e anche quello dei mi piace E ciurma dopo il primo tiktok vi andrò a dire un'altra cosa importantissima Ah ragazzi vediamo un pochettino funziona veramente wow voglio proprio vederlo Allora ok sta facendo ok con dell'acqua ok piazza questo ci mette l'alberello sopra e sbam gli fa crescere l'alberello Dopodichè ragazzi puff diamante sotto Ciurma ciurma Soltanto i level 1 crook cascono in queste cose e oggi ve lo dimostrerò e vi farò vedere anche come ricrearlo Allora ragazzi eccoci qua nel nostro bellissimo mondo di minecraft Il tipo ha preso dell'acqua quindi prendiamo della water Della dirt Un sapling di spruce e del bone meal Ok perfetto forse lui è sotto l'editing in questo video per fecarlo noi invece faremo le cose in grande Allora intanto vi dimostro che è fake Quindi lui fa un 3x3 di dirt in questo modo gli fa il contorno così ok Poi mette l'acqua fa tutto così ragazzi copre così metti il sapling lo fa crescere e magicamente poi sotto ha il diamante Ma in realtà non è così Quindi passiamo subito alla spiegazione Per iniziare ci serve un solo command block Per darvi un command block su minecraft potete fare il comando slash give il vostro nome Nel mio caso emerald96 E poi command block Ragazzi questa frase mi ricorda tantissimo i miei vecchi video dove testavamo i mega enchant Mamma mia Ed eccolo qua Questo command block ragazzi lo andremo a nascondere da qualche parte Lo mettiamo per ora qua dai Così potete nascondere anche voi nel vostro mondo di minecraft Ora ciurma dovete fare un'altra cosa Andate a selezionare un posto ben preciso dove fare questa struttura Quindi ne facciamo finta che noi faremo qua il nostro 3x3 di dirt Con dentro poi l'acqua ok Perfetto Ricordatevi che dovete poi andarlo a ricreare proprio nel punto che andate a scegliere Quindi mettetevi dei segnali o qualcos'altro Adesso cosa andate a fare Puntando questo blocco fate il comando slash set block Spazio tab spazio tab spazio tab Praticamente abbiamo preso le coordinate di questo blocchetto al centro Tant'è che se facciamo stone Pam diventa di stone Certo con la mia bellissima texture Fa che si mischia alla perfezione Ma dettagli E' un blocco ragazzi di stone questo Bene ciurma quindi cosa facciamo Prendiamo queste coordinate E le copiamo Ce le segniamo insomma Prendiamo queste coordinate Andiamo adesso nel nostro command block E scriviamo il seguente comando Execute Lo andrà a consigliare Poi if quindi se Il blocco che sta a queste coordinate Quindi quello che abbiamo scelto noi prima E un minecraft Quindi è un blocco di dirt Dirt A questo punto run Quindi esegui diciamo Un set block Alle stesse coordinate Però ragazzi Una è più sotto Quindi prendiamo la y E la scaliamo di 1 Quindi andiamo a 73 E andiamo a mettere cosa ragazzi Diamond block Mettiamo naturalmente ragazzi Always active E che si ripete Sempre Diventerà viola Ed è perfetto Tappiamo il command block Per non farlo notare Fate in chat ragazzi Slash Game rule Command block Output False E ragazzi Abbiamo finito E' molto semplice E adesso ciurma Vediamo se funziona tutto Alla perfezione Adesso non ci sarà nessun taglio Così vedrete che Funziona tutto tramite minecraft E non tramite l'editing Allora ragazzi Io ho scelto un punto Ovvero questo qua Me lo sono segnato Quella grass Che è il punto centrale Del 3x3x3 Questo vuol direi che Questo sarà il centro Quindi Voi lo sapete Dite al vostro amico Guarda Guarda cosa Ti faccio vedere Come si creano i diamanti Mettete un blocco di dirt E praticamente Gli spiegate tutto quanto Così fate il contorno Con calma Perfetto Poi mi raccomando Bisogna mettere Il blocco d'acqua al centro Poi andiamo a fare Un altro contorno E mettiamo Il blocco qua Sopra questo blocco Mettiamo un sapling E lo facciamo crescere E raga E guarda un po' Magicamente Abbiamo il nostro blocco Di diamante Visto ragazzi Tutto tramite minecraft Vi farete un sacco di scherzi Ciurma Vi mostro il suo punto ragazzi Il funzionamento Di quello che abbiamo scritto In quel comando Praticamente Minecraft rileva Se in questo blocco Mettiamo questo Appunto E un blocco di dirt Se un blocco di dirt Ragazzi Stuck Ci piazza Un blocco di diamante sotto Quindi rimpiazza l'acqua Bene ragazzi Primo tiktok Smentito E anche Ricreato Ma adesso La cosa importantissima Ovvero che questo venerdì Sul mio canale Twitch Link in descrizione Inizierà La maratona Per i 100.000 Followers Appunto su Twitch Ok siamo quasi A 140.000 Però Dettagli Inizierà questa maratona Alle 18 Questo venerdì Mi raccomando Non mancate Oltre al fatto che questa sera Alle 20 Sono anche in live Sempre su Twitch Quindi Non mancate mai Mi raccomando Naturalmente Ciurma Fatemi sapere Qua sotto nei commenti Se riuscite A trollare I vostri amici Con questi trucchetti E penso di meritarmi Anche un mi piace Ahiaia ragazzi Quanto ci piace Avere una farm Di diamanti infinita Ma perché non andiamo A ricreare Vediamo un attimo Questo tiktok Allora come farà A farm di diamanti infinita Ragazzi Guardate quanti diamanti Che arrivano Questi qui sono tutti I materiali Bene E vediamo il tiktok Piazza una cesta Ok Fa tutto così Perfetto Mette della Della stone Fa questo Robo qua Mette un blocco Di diamanti Naturalmente Perché dobbiamo Farmare i diamanti E un pistone Appiccicoso Da entrambe le parti Ok Dopodichè Fanno questa roba Così Ok Mette altri pistoni Solo perché naturalmente È meglio abbondare Con i pistoni Perfetto Dei observer Così naturalmente Cosa andiamo a fare Ragazzi Mette un altro pistone Ci mancherebbe E un blocco in red Perché no Perché tanto ci piace E poi facciamo anche Un tettino così Perché boh È carino Mi piace Perfetto Ragazzi Dopo aver fatto questo qui Arrivano appunto Tanti diamanti infiniti Dentro la chest Proviamolo Allora ciurma Iniziamo subito Praticamente Lui va a fare questa struttura qua Mette una chest Un hopper sopra Uno di lato E un altro di lato E gli hopper Li possiamo levare E anche la chest Dopodichè ragazzi Qua dietro Fa questa strutturina qua Con la stone Mette due torce qua E mette poi Redstone Redstone qui Dopodichè ragazzi Mette un blocco di diamante qua Anzi un blocco di diamond ore Qua E un altro qui E poi va a piazzare ragazzi Qua Un pistone appiccicoso E la stessa identica cosa Anche da quest'altro lato Quindi anche qui Un altro pistone appiccicoso Perfetto Dopodichè ragazzi Mette stone qua E stone qui Ed ecco qua che Abbiamo Questo movimento Praticamente Naturalmente dobbiamo andare Come sempre Anche noi con i pistoni E quindi Eccoli qua Ecco Ah ci siamo ragazzi Ci siamo Prendi adesso gli observer Ne mettiamo uno qua sopra Un altro qua sopra Blocco di stone Di stone Naturalmente un altro anche qui Qua mettiamo Questo qua Blocco di redstone Ragazzi E poi scaletta Scaletta E scaletta Al contrario Ecco qui la nostra macchina Per duplicare i diamanti Ma in realtà ragazzi È tutto finto Quindi Il tiktok Che sono smentito Andiamo adesso invece A ricrearlo Cosa ci serve ragazzi Il nostro caro amico Command block Quindi come sempre Give emerald Command block E ragazzi In questo tiktok Utilizzeremo Un altro comando Che in realtà Potete combinarlo Con quello del primo tiktok Per fare un sistema Ancora più efficace Mettiamo qua Ragazzi Un command block E adesso ragazzi Cosa facciamo Ci servono Due hopper Uno lo mettiamo così E uno così E possiamo rompere questo In modo che adesso Abbiamo l'hopper Che punta verso questa direzione E ragazzi Dentro quest'hopper Mettiamo un diamante Adesso Indonate un pochino Che andiamo a fare Apriamo la chat Slash Facciamo sempre Set block Per prenderci un attimo Queste coordinate E ce le salviamo Poi andiamo Nella nostra macchina Di pubblicazioni di diamanti Facciamo la stessa cosa E prendiamo ragazzi Invece queste coordinate E ce le salviamo Apriamo infine Il nostro command block E facciamo il comando Clone Copiamo e incolliamo Due volte Le coordinate di prima E una sola volta Coordinata Di quest'altro hopper E quindi ragazzi Doveste avere Due coordinate uguali Azzurra e gialla E quella finale Che è l'ultima Verde Cliccate su done E adesso Invece di fare Sempre always active Eccetera Facciamo need redstone Prendiamo ragazzi Dei repeater E facciamo un attimo Un piccolo clock Diciamo Facciamo in questo modo Ragazzi Lo accendiamo Lo stoppiamo Ed ecco qua Ciurma Che adesso Magicamente Abbiamo Dentro la chest I nostri Diamanti Eccoli Arrivano proprio qua ragazzi Arrivano proprio da quello centrale Proprio come i tiktok Anche se in realtà I diamanti Arrivano da quest hopper Che non è altro Che questo qui Tant'è che se andiamo a levare ragazzi Quel diamante E mettiamo Il redstone block Magicamente La nostra farm di diamanti Venta una farm di redstone block Facciamo un pochettino Di minecraft illegale Guardate un pochettino Due scalette Con questa forma Messa così Con il blocco di bedrock Tiri la leva col pistone E ragazzi Sbam 3d1 Bam Diventa Un blocco Cosa Si può unire realmente così Proviamolo Naturalmente Ciurma Fatemi sapere Poi qua sotto Nei commenti Se questa serie Vi piace E se volete Altri episodi Allora Ciurma Cosa facciamo Scegliamo subito Una zona dove fare la struttura Ci mettiamo qua al centro Dai Allora Praticamente Tiktok Cosa va a fare Mette un blocco di bedrock Che non si può spostare Mette una scaletta così Una così Un pistone Un altro blocco Noi mettiamo un blocco di verde Tanto non ci interessa Una leva E tirando la leva Ragazzi Dovrebbe unire due blocchi Ma Ragazzi Non funziona E sapete perché? Perché abbiamo sempre bisogno Del nostro Carissimo amico Coman block Cosa andiamo a fare Ciurma Sotto questa leva Facciamo un piccolo buco Così Mettete un pezzo di redstone E andate a mettere Due Command block Volendo ragazzi Li potete mettere Anche più bassi Così E tirate sempre La redstone Poi naturalmente Potete cercare di coprire Il buco come volete O ci mettete Naturalmente Non so Delle scalette Messe così Vedete che Il filamento Non si interrompe Perché se mettete Un blocco Ragazzi Si va a interrompere Non funziona più nulla Quindi adesso Mettete delle slab Delle scalette Insomma fate Tipo in un pavimento Già fatto Ecco Così si nasconde per bene E indovinate ragazzi Lo saremo a fare Andremo a prendere Due coordinate Andiamo a prendere ragazzi Questa coordinata Sempre col comando Set block Molto easy Tac Prendiamo la prima coordinata E la seconda Che sarà accanto ragazzi Che la potete prendere Sempre nello stesso modo Insomma Ormai avete capito Come funziona Bene Quale cosa andiamo a fare ragazzi Un set block Coordinate Aria Mettiamo dell'aria A noi ci piace l'aria Giusto? Si Nella seconda coordinata Ragazzi Set block Stessa coordinata Però nel mio caso È questa qui Meno uno Voi prendete per bene La coordinata Sempre nello stesso modo Dell'altro blocco accanto E mettiamo Generalmente ragazzi Uno stone brick Fatto Tappate tutto Come volete voi Così wow E ragazzi Tirate la leva Surprise Ragazzi Abbiamo fatto tutto Ecco qua E quindi si ragazzi Puoi trollare In questo modo Tutti i vostri amici Questo qui È uno molto De effetto Guarda Guarda Cosa posso fare Vi posso unire Scommetterci Quello che volete Il vostro mingo Vi dirà Ma no Ma che stai Dicendo Che dire Follettino Follettino Ah Ci urma Vediamo adesso Un prank Nel nether Quindi uno scherzo Fatto nel nether E faremo uno scherzo A Un piglin Guardate un pochettino Allora Un lingotto Rinominato in tnt Lo si prende Lo diamo a un piglin E lui lo raccoglie Contentissimo E talmente contento Che esplode Già Che bel prank Potete fare il prank Così ai piglin Ma anche sempre Ai vostri amici E come si fa ragazzi Questo qua Beh ci urma Beh ci urma In questo caso È leggemente tutto Più complesso E ci serve ragazzi Un datapack E ci urma Per installare il datapack Cosa dovete fare Andate in single player Selezionate il vostro mondo Cliccate su edit O modifica Se ce l'avete in italiano E aprite la cartella del mondo E avrete questa cartella qua Andate dentro La cartella Datapacks E dovete portare Questo file zip Vi stai chiedendo Ma questo tntpx.zip Da dove lo tengo? Beh ci urma Lo andrò a rilasciare Sul mio canale telegram Appena questo video Raggiungerà I 30.000 like Oppure Appena il mio canale telegram Raggiungerà Gli 8.000 membri Ne mancano circa 1.000 Trovate tutti i link Qua sotto in descrizione Quindi mi raccomando Seguitemi ragazzi Anche su telegram Oltre che a instagram E c'è insomma Dovete seguirmi ovunque raga Dopodiché quindi ragazzi Entendete il vostro mondo di minecraft E facciamo un portale per il nether Ok perfetto raga Ci vediamo all'inferno Eccoci qua Ci ha tipato pure instant Mamma mia A questo punto prendete ragazzi Dell'oro E un anvil Rinominate l'oro In tnt E ragazzi A questo punto facciamo un regalo Ai nostri amici del nether Ecco qua Un pezzettino d'oro Ragazzi L'oro al colgono E pam Un altro pezzettino d'oro Tutto per voi Lo prendono E pam E ragazzi Oh oh L'ha ripreso No no Sapete La raga Sicuramente è una cosa divertente E questa raga Ne droppate uno E ciurma Continueranno a prendere all'infinito Oh no Di nuovo Di nuovo E comunque Se non si fosse capito Il tiktok è smentito Cioè non funziona Realmente Serve un datapack Ecco Ho una serie lunghissima Di command block E intanto Ciurma Per questo datapack Stradivertente Voi tantissimo Ringraziare Un mio amico Che l'ha appunto Creato apposta per me Che si chiama Gnotro Grazie ancora carissimo E' veramente bravo Sto ragazzo E nada Ciurma Prima dell'ultimo tiktok Come sempre Vi ricordo di lasciare Un mega mi piace Un commentone qua sotto E vi ricordo anche che questo venerdì Alle 18 Inizierà la maratona Sempre sul mio canale Twitch Mi raccomando non mancate Iscrivetevi ancora al canale Tivano la campanina Se lasciate ancora un mega mi piace Soprattutto per avere A 30.000 like Il datapack E ciurma Vediamo Il prossimo tiktok